Il miglior califano alla radio è il califano di Pierluigi Diaco, del mio amico Diaco quando lo ospitava a RTL tanti anni prima, di notte soprattutto. Era un califano in forma, in grande forma, molto più spigliato. Sarebbe stato curioso e bellissimo avere califano in questo periodo della zanzara, la zanzara degli ultimi anni, la zanzara trasgressiva che affronta problemi che riguardano il sesso, la società, la politica con un linguaggio diverso. Ecco, califano sarebbe stato un ospite perfetto, un protagonista perfetto, anche il califano degli anni 90. Tra zucchero e sale